Case finali, in una delle zone più servite verdeggianti della città, a due passi dal centro e nello stesso tempo con la tranquillità di parchi nelle vicinanze e zone pedonali ideali per camminate, proponiamo ampio appartamento di oltre 110 metri quadri al piano rialzato, completamente ristrutturato a nuovo e con ingresso indipendente, un ampio soggiorno multiluminoso, cucina abitabile, camera matrimoniale e camera doppia, un grande servizio. Dal soggiorno si accede ad una veranda adibita a zona lavanderia e ad un ampio terrazzo, ideale sia come gioco bimbi che per trascorrere cene e serate in relax. Completa la proprietà una cantina ed un ampio garage esclusivo. Grazie a tutti.